Sì, è un po' l'espedito via. Tranquillo, grande, guardi alta. Tranquillo, respira. Tranquillo, spaventato con i due gatti. Primo cassificato, qualche quarto. Tutto del cassificato, uno, scatato con la mea. Parte bene, non è venito. Sono gli altri, sono io. Sono io veramente. Tutti ridi, guarda. È una tattica per guadagnare il respiro. Guarda che ha fatto bene. Io dormiva. Guarda, guarda. Guarda, il computer tutto. È iniziale. Si è spento anche il monitor. Spero. Guarda. 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 Grazie a tutti.